Ci vorrà un'idea di fare un posto di cose, ci vorrà un'idea di fare un'idea di fare un spazio, ma ci sono soltanto anche per contrastare a un'identità. Cosa è il particolo? La filosofia, la filosofia, la filosofia, la filosofia, la filosofia, la filosofia. Ora, è una cosa pesante, è un presuppone che un'autica per qualcosa, perché non dover, perché non si svolge la filosofia, e se non dobbiamo ascoltare. in questo caso lo avete fatto a scuola cioè avete fatto vivere negli spazi avete fatto vivere della carta, dell'indio avete fatto vivere un sentimento di qualcosa ecco perché questa sia bellissima vedere che in realtà questi sono i territori che riescono a dare in grado di costa mettendo qualcosa dentro quindi non levate molto questa stanza è molto più bella che dovrà essere come è perché la vita è un'unità sicuramente ma perché sarà la nostra domani, sarà dei miei figli domani e sarà sicuramente i nostri figli che possono essere domani e mi auguro sicuramente che siate riusciti a salvare quella che è la nostra identità che è una cosa che è una situazione più bella, cioè questa situazione va a tutto bene